Ciao a tutti, ben tornati in un nuovo What It In A Day, stamattina appena sveglia, e qui si vede dalla faccia, ho bevuto moltissima acqua, cosa che non faccio mai, e non avevo voglia di fare colazione, quindi sono andata direttamente al pranzo, mi sono mangiata prima queste patatine, poi un po' di pane, poi finalmente ho pranzato, con questo hamburger cacio e pepe, devo dire molto buono, qui c'è anche la reaction, perché era la prima volta che lo assaggiavo, sapeva solo di pepe, però era buono, e poi l'insalata, che quell'insalata è l'unica che riesca a mangiare senza niente, forse perché sono stata abituata da piccola, cioè senza niente, senza tipo un accompagnamento. Poi ho sussicato queste patatine con il prosciutto crudo, cosa un po' difficile da mangiare, e per merenda direttamente una pesca noce, molto molto buona, io le preferisco le pesche normali, non so perché, per me la frutta non deve essere matura, mi piace più così. E poi ho sgranocchiato questi qua, che non avevo mai provato, ho scoperto che c'è la cannella, raga, buonissimi. Mentre aspettavo che le mie amatissime polpette si bucessero, mi sono mangiata un pezzo di pizza con il pomodoro e le mozzarella di bufala, raga, troppo buona, quindi ho fatto questa sorta di antipasto, e poi ho cenato con queste polpette che sono ricote spinaci, che bruciavano, però erano molto molto buone. Se vi va niente, seguitemi su Instagram.